Cristina Marino ha dispensato preziosi consigli su fisico, alimentazione, smagliature e ritenzione idrica ai suoi follower. L'attrice e fitness influencer 32enne, che è sposata con Luca Argentero dal 2021 e con lui ai figli Nina Speranza, 4 anni in queste ore, e Noe, venuto al mondo lo scorso anno, è un punto di riferimento in Italia su questi temi. Ha quindi parlato della sua esperienza e di come è riuscita a mantenere un fisico tonico anche avendo avuto due figli di recente. Con due gravidanze, si fa che, devo essere sincera, in entrambe le gravidanze io mi sono concessa dei lussi. Non ho patito. Ma ho seguito una sana e corretta alimentazione. Questo ha fatto sì che dopo le gravidanze non avessi un gran lavoro da fare per tornare in forma. Ha detto. Andando a ritroso. Prima di essere incinta, sono sempre stata allenata. Quindi il mio corpo è il frutto di anni di costanza. Che però a me non pesa perché è una cosa che amo e che mi piace molto fare. Sia l'allenamento che seguire una corretta alimentazione. Ha aggiunto. Io sono sincera. Prima durante e dopo la gravidanza ho sempre idratato a fondo. Mi sono sempre curata. Questa è una cosa che mi ha insegnato la mia mamma fin da quando ero adolescente. Che il corpo stava cambiando. Visto che le smagliature vengono quando uno prende peso. Lo perde. La fase di crescita è esplosa e se la pelle non è ben idratata o nutrita. Cosa succede? E, come se si rompesse e creasse dei segni. Motivo per cui a mio avviso è molto importante usare creme adeguate. E quello fa, ha affermato. Per quello che è la ritenzione. Allora io bevo adeguatamente. Non troppo se devo essere sincera. Faccio uso del mio amato drenante. Specialmente quando fa molto caldo o mi sento gonfia. Il drenante di Befancy Fit. Il suo brand. NDR. Aiuta molto con i liquidi in eccesso. Ha continuato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.